Ciao Trieste, sono Fabio Carini, candidato sindaco della lista civica partitica Startup Trieste. Insieme a me ci sono 40 splendide, favolose persone, 40 professionisti, 40 cittadini di Trieste, 40 persone che ogni giorno studiano, lavorano, vivono, cercando di fare del loro meglio, cercando di dare se stesse per le proprie famiglie, per le rispettive famiglie. E' per tutta questa città che evidentemente amano se hanno deciso di mettersi a disposizione in una lista civica come la nostra. Nata il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il giorno dell'amore, forse non a caso. E' già una splendida realtà di Trieste, una realtà che vuole cominciare un lavoro e portarlo avanti nel tempo, perché la nuova politica non può essere fondata su logiche di schieramento che poi non fanno altro che lavorare sulle spalle di tutti noi. La nuova politica, specie in un comune, deve essere quella di una visione meritocratica, una visione aperta, una visione open mind, come si suol dire adesso in Europa, ovvero la capacità di ascoltare tutti, di fare sintesi, di fare le scelte migliori, senza preclusioni di schieramento, senza dover pensare che a destra o a sinistra ci siano dei grandi intelligentoni o dei grandi stupidoni. Da tutti bisogna apprendere qualcosa, bisogna saper scegliere il meglio, sia a livello di persone, sia a livello di progetti. Perché nella lista civica Startup Trieste c'è l'espressione di tutta la città, giovani, meno giovani, da 21 a 85 anni. Ho candidato anche la mia futura moglie e la mia attuale mamma. Perché? Perché questo è il senso di una città che diventi una famiglia allargata, dove tutti si mettono a disposizione degli altri, senza preclusioni alcune, mettendo il proprio cuore, la propria anima, le proprie conoscenze. Solo in questo modo possiamo ripartire da una Trieste che ha valori umani importanti, da una Trieste che attraverso questi valori può raggiungere l'Europa. Perché non dobbiamo guardare ai nostri vicini di casa in Friuli. Loro devono viaggiare attraverso le loro logiche, perché la Regione, in questo caso, privilegia il Friuli piuttosto che Trieste. La Regione di adesso ci sta depredando di tutte le risorse e le nostre eccellenze, dalla sanità ai trasporti alle multiutility, al turismo, allo sport, tutto ci sta portando via. Allora sono con il cuore, con l'animo, con chi ama Trieste, con chi veramente vuole impegnarsi solo per questa città, solo per tutti noi, possiamo raggiungere dei grandi obiettivi. E lo possiamo fare step by step, passo dopo passo. Startup Trieste rappresenta tutta la città, tutte le sue splendide comunità, le sue splendide diversità. Ecco perché in questo modo si può costruire un futuro, quando si considera che i triestini sono italiani, ma non solo italiani. Il grande plus valore di Trieste è questo, essere davvero ricchi di diversità. E su questo dobbiamo puntare se vogliamo valorizzare Trieste in questa Europa.